Allora, c'è una domanda di Gianluca che dice Quando si diventa manager per la prima volta cambiando azienda, come gestire l'invita dei nuovi colleghi che ambivano al tuo posto? Ah, ok. Allora, questa è una delle sfide di cui parla Michael Watkins nei suoi libri. Se non li avete letti, nel link ai miei video ci sono i consigli di lettura. E uno degli autori per me più interessanti è Michael Watkins, che tra l'altro adesso è insegnante all'IMD, la Business School di Lausanna, e lui ha scritto due libri che sono stati anche trarotti in italiano. Io vi consiglio di leggerli in inglese perché in generale anche lato business è meglio leggere in inglese, però se volete sono disponibili anche in italiano. Uno si chiama I miei primi 90 giorni, cioè I primi 90 giorni, First 90 Days, che parla del quando entri in una nuova azienda, quando inizi a ricoprire una nuova posizione, come gestire il primo periodo, che è molto interessante come libro. Il secondo libro parla della parte un po' più avanti nella carriera. Quando si appunto è una situazione manageriale di responsabilità, allora si chiama infatti La tua prossima mossa, Your Next Move, titolo originale, e parla proprio del tipo di sfide che si affrontano andando avanti nella carriera. Quindi può essere la sfida del trasferimento all'estero, la sfida del cambio di azienda, la sfida del cambio di divisione, la sfida della promozione. Ora, che sia nella stessa azienda o in aziende diverse, il problema del diventare manager rispetto ad altri si può presentare comunque. Anche se non date per scontato che tutti vogliono diventare manager, eh? Cioè vi assicuro che ci sono anche persone che non hanno la minima intenzione di spostarsi o di fare certi passaggi, per cui sono assolutamente felici di avere qualcuno che si occupa della parte gestionale e di coordinamento delle attività. Però la parte invidia... Allora, quelle sono un po' di dinamiche... Dovete sempre considerare che i colleghi sono persone e quindi si portano dietro, come noi, perché ce li portiamo dietro anche noi, tutte delle dinamiche particolari. Un'azienda con una cultura non tossica dovrebbe comunque prevenire determinate dinamiche o comportamenti pericolosi. Sì, le persone saranno invidiose, ragazzi, sì. Lo sarete anche voi, probabilmente, rispetto ad altre posizioni. L'importante è che non ci sia una fase di sabotaggio. Ecco, quello ovviamente non deve mai accadere. Una delle cose più difficili quando si prende una responsabilità è il bilanciamento tra il distacco dovuto dalla differenza gerarchica e il creare legami. Ci sono dei momenti in cui, come manager, mi dicevano lasciali da soli. Cioè, se c'è il momento in cui sono al caffè o alla pausa sigaretta, non andare, perché c'è anche necessità di un momento in cui loro stanno da soli anche a sparlare o comunque a parlare di te. Non bisogna essere sempre troppo presenti e via dicendo. Anche nella parte di socializzazione informale e tutto è bene stare attenti e trovare l'equilibrio. E, come dicevo, l'importante è che non ci sia una situazione di sabotaggio, ma tra professionisti non dovrebbe verificarsi. Tipicamente è più facile trovare delle dinamiche di non collaborazione o dei giochi di forza quando c'è la gara all'assegnazione di un posto, ipotizzando che non ci sia un candidato esterno, no? Quando il posto è già segnato, i giochi sono già fatti, devi essere veramente stupido per continuare la battaglia, perché ormai è sdanna, no? Quindi ormai quello è il setup, ci devi lavorare. È molto improbabile che ah no, ci siamo sbagliati e si torna indietro e anzi, anzi, diamo a te, ci siamo sbagliati, era l'altro. Questo non accade, dovrei aspettare la prossima finestra, la prossima opportunità all'interno, all'esterno, nella divisione in altro, però è abbastanza difficile che che chi ambiva a arrivi letteralmente a sabotare. Quello che si deve invece fare è stare attenti a non entrare con arroganza, ma questo in generale non soltanto per le posizioni manageriali, ragazzi, è uno degli insegnamenti anche del libro I primi 90 giorni. Quando si entra in una posizione o in un'azienda, soprattutto i primi periodi, le prime settimane, si fa quello che si chiama seguire il solco. Cioè, non è che voi entrate in un'azienda che stavano lì aspettando la vostra venuta e salvifica. Cioè, l'azienda lavorava, ha delle sue procedure, ha un suo stile e tutto quanto. E tipicamente, i primi tempi, il messaggio è continuate a fare quello che facevate prima, poi si iniziano a fare i one to one con le persone, a conoscerli, a capire, e allora anche in base alle esigenze dell'azienda si modifica o si continua o si rafforza perché ogni entrata in una posizione, soprattutto manageriale, gli scenari che c'è davanti possono essere diversi, possono essere scenari di il business va avanti e si procede, oppure il business sta crescendo, sta decrescendo, c'è una criticità per cui bisogna cambiare e dare una grande svolta, ci sono state delle problematiche di un certo tipo e via dicendo. Questo dipende, no, anche perché quella posizione era vacante, perché il manager precedente è stato promosso, è andato in pensione, se ne è andato, è stato cacciato, oppure è aumentato il carico di lavoro, per cui questa è una posizione manageriale completamente nuova. Tutte queste storie dietro creano un tessuto, un terreno che determina dinamiche completamente diverse, per cui sicuramente per qualunque posizione lavorativa, manageriale e non, assicuratevi di non arrivare come il messia, quello che io so tutto, da dove vengo, si faceva nel modo giusto e qua è tutto sbagliato, quindi adesso vi insegnerò, quello non è proprio professionale e dovete evitarlo. Questo sicuramente aiuta a smussare e poi fate il più possibile one to one con le persone e assicuratevi di mettervi al loro servizio, capire subito di che cosa hanno bisogno, dove devono essere supportati, e quindi capire quali erano anche le dinamiche esistenti precedentemente. Spero Gianluca di aver risposto in linea generale alla tua domanda.